Eccoci di nuovo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno con la nostra postazione di Alma Radio per sostenere la Virtus con l'iniziativa Convinciamo Insieme le V Nere. Dopo la vittoria a Brindisi la Virtus Granarolo sfiderà il Caserta e sono tanti i virtussini che sono accorsi per tipare e incitare la squadra e noi come sempre siamo qui per raccogliere le loro voci. Andiamo a sentire cosa hanno da dirci. Siamo con Elisabetta e Margherita. Elisabetta e Margherita, cosa volete dire per incitare la squadra della Virtus? Che è ora di cominciare a giocare. Sì, e puoi anche continuare, non solo iniziare. Ok, ci siamo, siamo qui con un altro tifoso, un super tifoso della Virtus, ti chiami? Super tifoso, Gabriele. Gabriele, allora Gabriele, come vedi, abbonato, vediamo l'abbonamento, come vedi questa partita di oggi? Credo bene, batteremo clamorosamente Caserta di 20-30 punti. Gianni, allora Gianni, cosa ci dici per incitare la Virtus? Oggi vinciamo, abbiamo fatto una splendida partita l'altra volta con Brindisi, un brutto campo, poi è uscito Warren, molto più di quello che ci si aspettava dopo la prima partita. Alessandro. Alessandro, bene Alessandro, come vedi la partita di oggi? Beh, oggi spero che vinciamo, almeno così, una piccola speranza di andare ai play-off ce l'abbiamo. Il fatto che ci sono i tifosi della Fortitudo dall'altra parte gemellati con Caserta ti dà fastidio? Anzi, questo vorrebbe caricare più ancora quelli della Virtus, ancora meglio. Non so cosa vuol dire Fortitudo, è una parola che non... Hai saputo che ci sono i tifosi della Fortitudo? Sì, ci sono sempre quelli. Ma sono gemellati con Caserta? Sì, sì, da anni, da anni, molti anni. E questa cosa come la vedi? Cioè, ti fa piacere o...? Mi lascia indifferente, sinceramente, non è che mi tocchi molto. Beh, un incoraggiamento di questi è sono nato virtussino, la Vunera è il mio destino. Non diremo mai che è finita finché d'ora la partita. Fai un incoraggiamento alla Virtus? Virtus! Pensi che vinciamo la partita? No! Si vince. Si vince, secondo te? Si spera di vincere. Si vince oggi. Una Virtus, Caserta è una squadra di merda. So we put our hands up like the ceiling can't hold us, like the ceiling can't hold us. Eccoci qua. Ciao, siamo con i bambini della Virtus e proviamo a sentire un po' i loro nomi. Come vi chiamate? Riccardo. Pietro. Giovanni. Lorenzo. Davide. Federico. Marco. Andrea. Giulio. Filippo. Davide. Giorgio. Matteo. Federico. Riccardo. Lorenzo. Allora andiamo a sentire il personalissimo coro di incoraggiamento dei bambini della Virtus. Bambini della Virtus! Siamo quasi all'intervallo della partita. Granarolo 33, Pastareggia 35. Andiamo a sentire cosa ne pensano i tifosi. Dici che ce la facciamo a vincere? Speriamo di sì, da come stiamo giocando dobbiamo migliorare un po' di cose, però si può vincere. Forza Virtus! Fa tutti schifo là in mezzo. Dai Vunero, ci proviamo, rega. Forza Virtus! Forza Virtus! Ragazzi, dobbiamo vincere con i casertani. Non si può perdere. Beh, oddio, è una partita complicata anche oggi come l'altra volta, però la squadra c'è, dai. Secondo me è reattiva, quindi speriamo che continuino così e che riescano finalmente a portare a casa un'altra vittoria. Grazie! 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 Grazie a tutti